A Bruxelles, Alessandra Moretti, lei che ha questo sguardo a questo punto anche europeo, ha fatto bene l'Italia a chiudere lo spazio aereo senza consultare i nostri vicini? O è stata una decisione un po' intempestiva? Io credo che in situazioni di emergenza come queste il governo abbia fatto bene ad assumere una decisione anche così drastica. Devo dire però e vi ringrazio per l'approccio che avete voluto dare a questa trasmissione molto equilibrato senza creare allarmismi perché abbiamo visto quanto pericoloso sia di fatto dare anche delle informazioni che possano gettare nel panico i nostri connazionali. Essere però in un contesto europeo, avere delle regole europee anche sulla sicurezza internazionale perché sulla salute, sulla igiene, sulla sicurezza alimentare ovviamente non si scherza. Io questa mattina ho predisposto un'interrogazione alla commissaria della salute Chiriachidis chiedendole proprio come l'Europa intenda affrontare nei prossimi giorni questa emergenza che abbiamo visto e si è diffusa anche in altri paesi europei oltre evidentemente al nostro. Quindi dobbiamo fare tutto possibile senza però creare nei cittadini che non hanno nessuna colpa nemmeno chiaramente i cinesi allarmismi o atteggiamenti che possano fomentare gesti di discriminazione intollerabili.